Mangiare bene e bere bene vuol dire vivere meglio e da Luigi questo risultato ce l'hai, non mancate, ciao! Ci cominciamo! Benvenuti a Pettina Luigi per la terza inaugurazione, facciamo un bel applauso a questo scritto e vocale, c'è scritto a me su tutti i giorni. Prego! Anzitutto grazie, perché fa piacere vedere così tanta gente. Il vero challenge per noi oggi è veramente Zurigo. Zurigo è la città più bella, più dinamica, più grande della Svizzera e quindi per noi oggi è come se fosse il giorno 1. Saremo sempre qua e sempre con il suo viso. Questa è Luisa, grazie! Tu vedrai regione Zurich è come avere l'italiana nonna che controllamentai ogni giorno, a volte io sicuro che ostat rampante Lo spero pot poter divertirvi più volte ci potremmesso! Grazie ton! Sto ancora al 40? Ancora al 48? Ah sì, è al 48! Oh,天! Tu hai 40 cavi stai, dèon? Ma io sono a 5.40 5.40? 6.40 Un'altra quattro, scelta Eh, sono un'altra quattro Quello che nel coattro Inizio del Peridogo Alicone del Peridogo Micone del Peridogo Inizio del Peridogo Qualcuna States E' di fine Luisa, ragazzi Scusi quella cosa, Luisa La medica del Peridogo E' di fine Lo e' di fine Un passo è veramente Napoli, la città più bella del mondo, facciamo il nostro più bello Venizia. Amore, orrata, azione, dai! Amore, orrata, azione, dai!